La nonnina con la scopa quest'anno il 6 gennaio non porterà soltanto calza e carbone. Da quest'anno ha deciso di riservare un altro dono, la camminata della Befana, in programma sondro alle 14 con ritrovo in piazza Campello. Un tour per il centro del capoluogo organizzato dall'associazione Nordic Walking Valtellina, guidata da Mario Chiapparini, in collaborazione con l'amministrazione comunale per scoprire questa disciplina in rapida espansione. Vogliamo avvicinare a questa nuova disciplina che è nata nei paesi nordici, esattamente in Finlandia, un po' tutta la Valtellina, è già da anni che noi lo stiamo proponendo in Valtellina, dal 2008, e quindi siamo già una giovane associazione che ha il suo attivo 8 anni di attività e la vorremmo proporre anche in questo ambito ludico della camminata dell'Epifania. E per accontentare proprio tutti, sono infatti previsti due tracciati. Un percorso più semplice e ovviamente più ludico per i bambini e per i genitori che li accompagneranno, e uno per dei genitori che invece hanno i bambini ormai grandi, quindi dei ragazzi, e che quindi volessero riscoprire un po' anche degli angoli di sondio e intorno a sondrio, che venivano percorsi dai nostri anziani. Dalle 16 merenda per tutti, accompagnata dalla discesa delle bifane dal campanile, ma la manifestazione è in servo una finalità ancora più importante, raccogliere fondi a favore dell'Avio, l'associazione per il bambino in ospedale di Sondrio. In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato all'anno successivo. Grazie. Grazie.